Salve, benvenuti a tutti su It's Logo Time, un canale dedicato ai loghi dove andremo ad analizzare insieme i loghi più importanti del mondo, la loro evoluzione, i loro significati e tutte le varie curiosità che stanno dietro alla loro nascita e alla loro evoluzione. Non perdetevi niente, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ogni giovedì alle 15 qui su It's Logo Time. Vi aspetto, non mancate, mi raccomando. Ciao!